L'ingresso della questura di Pescara da oggi pomeriggio fino a domani 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si tingerà di arancione, il colore scelto dalla campagna targata United Nations Women. Nell'ambito dell'iniziativa permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere, questo non è amore, in Piazza della Rinascita in mattinata sarà presente il team del Camper Rosa, un vero e proprio esercito della prevenzione, tra gli addetti ai lavori, agenti della squadra mobile, della divisione anticrimine ma anche operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura. La mission comune? Prevenire e acquisire una maggiore consapevolezza grazie anche ai dati che verranno diffusi e che mettono in relazione i fattori di rischio e le vulnerabilità. Non mancherà lo sport domani 25 novembre con la sezione giovanile di pugilato delle fiamme oro istituita presso la Scuola della Polizia di Stato per il controllo del territorio, un modo per celebrare la donna dentro e fuori dal ring. E sui numeri della violenza, quella domestica, in piena linea con i dati Istat nazionali, 164 casi per questo 2022 rispetto ai 167 del 2021. Al secondo posto nei reati del Codice Rosso, la legge 69 del 2019, istituita con il proposito di rafforzare la tutela delle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, c'è lo stalking con 108 casi nel 2022. In relazione all'applicativo Scudo, programma che consente l'inserimento e la consultazione dei dati relativi ad episodi rientranti nel cosiddetto Codice Rosso, non sempre caratterizzati dunque da particolare gravità e aggressività, la sala operativa dal 26 novembre 2021 al 20 novembre 2022 ha ricevuto 331 richieste di intervento per liti in ambito familiare. La volante ha effettuato nello stesso periodo 5 arresti in flagranza di reato, di maltrattamenti in famiglia e un arresto in flagranza per atti persecutori. Inoltre ha eseguito 3 misure cautelari della custodia in carcere disposta dall'autorità giudiziaria informata a seguito degli interventi effettuati sugli episodi di violenza di genere. Il questore Liguori ha rimarcato anche qualche dato circa l'attività della squadra mobile, 13 le misure cautelari di cui 5 per atti persecutori, 7 per maltrattamenti in famiglia e 1 per violenza sessuale.